Signori animali della foresta, ora farete sentire i vostri versi perché poi i bambini li ripeteranno. No, 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 cos'è questo chiasso? Siete peggior degli animali della fattoria? Dovete fare i vostri versi uno alla volta. Avanti il signor coccodrillo! Avanti il signor elefante! Avanti la signora giraffa! Avanti il signor ippopotamo! Avanti il signor leone! Avanti il signor serpente! Avanti il signor serpente! Avanti il signor serpente! avanti la signora zebra avanti il signor operbacco con questa pioggia dobbiamo sostendere tutto riprenderemo con altri animali appena torner del tempo il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info